Allora ragazzi, come abbiamo pianificato oggi facciamo il sentiero 170 Ma com'è che è il corso? No, è una cosa tranquilla, sono un paio d'orici Ragazzi, mi sa che sta venendo a piovere Ma già che è tutto a posto, sì? Sì, sì Io c'ho anche il kit Dai, allora, a casa Luca ha appoggiato male un piede ed è caduto rovinosamente Ha un forte dolore a un ginocchio Anche un piccolo incidente in montagna non va sottovalutato Oddio ragazzi, c'è una persona a terra, forse si è fatta male Come stai? Sta male al ginocchio Che è successo? Sono scivolato da qua sopra, ho messo male in piedi Allora, Michele e Claudia, voi lo tenete fermo immobilizzato Codi e stasi voi lo coprite con il telotermico In questo caso l'infortunato non va assolutamente mosso Va coperto e ci dobbiamo attivare per chiamare il soccorso Tu Francesco, attiva di per chiamare il soccorso Le informazioni da dare sono Causa dell'incidente e condizione sanitaria La posizione e la situazione meteo del momento L'operatore vi guiderà nelle corrette procedure Mantenete la calma e attendete i soccorsi